Di unione dei vigili questa mattina presso il comando per avere un confronto con l'amministrazione comunale per chiarire la questione turnazione e reperibilità che deve essere assolutamente retribuita. Ciò che è stato messo in evidenza dal corpo della Polizia Municipale, l'assenza di un documento firmato dagli amministratori comunali che garantisse ciò che il Sindaco ha stabilito in merito alla decisione dell'Aran, in base alla quale bisogna ridimensionare il servizio dei vigili per mancanza di fondi. Precisa la posizione del primo cittadino e dell'assessore Luciano Leone che garantiscono ai vigili tutto ciò che gli spetta, ma la certezza che viene chiesta da questi ultimi è una precisa sottoscrizione di quanto garantito a fronte di un'eventuale decisione di azione risarcitoria nei confronti del Comune. Accanto al corpo dei vigili urbani scendono in campo i sindacati che unanimamente abbracciano la causa della Polizia Municipale che chiede a breve dei chiarimenti. Abbiamo indetto un'assemblea sindacale con la partecipazione dell'amministrazione comunale per discutere sul salario accessorio del corpo dei vigili urbani. Praticamente c'è una questione che riguarda la reperibilità, la tornazione e tutto quello che riguarda le indennità che il corpo dei vigili urbani percepisce per un servizio prestato. Quindi a secondo della risposta che questa mattina il Comune vi darà, voi in futuro agirete? Sì, certamente, perché se non ci sono i fondi per assicurare questi servizi, chiaramente noi non li possiamo assicurare. Però l'amministrazione deve dirci in effetti se vuole essere assicurati questi servizi e deve trovare le risorse per assicurare questi servizi. Il corpo della Polizia Municipale soffre anche della carenza dei vigili, soprattutto in strada? Sì, siamo certamente senza personale. Il personale è carente di circa 20 unità da alcuni anni e quindi non possiamo assicurare certamente tutti i servizi che l'amministrazione comunale in effetti potrebbe avere. Ma noi diamo tutto quello che possiamo, cioè tutti i servizi, tutto quello che ci viene detto, oppure tutto quello che l'utenza richiede. Noi siamo sempre a disposizione, anche sacrificando ore senza essere retribuite, è sempre a disposizione dei cittadini. Esiste una graduatoria ma non si sblocca? Sì, abbiamo fatto in detto un concorso per l'assunzione di personale a termine e dopo l'assunzione di cinque unità nel periodo estivo per esigenze di servizio poi è tutto fermo. Noi abbiamo chiesto in questo periodo del Natale arianese per assicurare meglio i servizi, almeno l'assunzione di due unità ci è stato promesso, però poi non è stato fatto niente. Grazie a tutti.